a voglio eccoci che stiamo sempre esplorando queste rovine come potete vedere siamo alla ricerca di questo fantomatico mago azioniamo la orondine funzionato andiamo allora o dovremmo esserci quasi vediamo questi sono due golem no quattro mostri tre mostri allora spirito nanico questo è ghiacciato ma è un golem però anche questo a bottiglia d'acqua io armiamola subito allora pietre uniche clicca due volte su una pietre rune che seleziona l'alma che desideri potenziali stribur stribur minore pietre rune sensibilmente vuole di una spada di migliore caratteristiche congelamento questo è axi questo è quello potenzialmente ma io solo qua posso metterlo si vedo qua vedete che c'è questo pallino vabbè questo non c'è bottiglia d'acqua mettiamola qua questi anti necropagi qui c'è qualcosa da mangiare no perfetto voglio ok quindi quindi portatrono si ma mi ammazzano i cani selvatici pensate quello non c'è tempo da perdere non c'è tempo da perdere non dirmi che devo affrontare che cacchio è successo si è bloccato il gioco voglio non c'è tempo ah ok la generazione cosa è questo? la fredda bianca fatta dalla città potresti vedere tutti quei freddi che vanno attraverso? si è troppo lontano si è troppo lontano dovremo arrivare a più dovrei lo so lo so la fredda si è troppo si è troppo lontano si è troppo lontano guarda si è troppo lontano guarda 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 questa adesso ha l'energia eh uccidi le creature che emergono dai portali eh si si come faccio sto congelando mi sto congelando sto congelando voglio saltare in aria no 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 vai chiudi sto portale ce ne sono più i battiti zolfo sti cosi uno è stato chiuso vai oh qui posso salvare mamma mia no perfetto con tre portali ah wow è stato difficile possiamo accendere qualche fiacco la quale cosa eh eh nitala qua chissà che cosa uscirà da qua ah no sempre quello ah 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 Grazie a tutti. Ripigliate, ripigliate. Io pure bevo. Vai, vai tranquilla. Vai tranquilla che adesso li ammazziamo. Vai bella mia. Aspetta un attimo. Prima io avevo visto. Vediamo dov'è, vediamo dov'è. No, non avevo visto niente. Olive c'era, tipo. No, me sbaglio, no. Cosa che nella 75esima volta che ho perso me li avrò riprese. Sì, sì, no, no. Al G7-8. No, 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 no. No, no. No, no. In 10 mi attaccano. Porca trota. Waiu. Eccoci tornati, ne manca una. Ho sostituito un paio di tasti, ho fatto un po' di variazioni nel protagonista qua, nel personaggio Geralt. Vediamo come ce la capiamo adesso. Qua ci sono veramente tanti adesso. No, la spreca. Qua sono un reso. No, 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 no. Facciamo pure quattro. No, 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 no. Facciamo pure cinque. Vai. Bella, Waiu. Si stanca. Preciso. No. Ah. Sviene, sviene, sviene tra le braccia di Geralt. Strano. If you can't go on. You can't leave me here. I'd never do that. Hmm. Love to be able to say we can stay. I know, I know. We must go on. Ecco. Voglio, voglio. Allora, dopo tutta sta parte. Difficilissima. Io direi di controllare che cosa c'è nelle casse. Sì, che cosa? Come cacchio ti chiami? Fammi, fammi controllare prima chi c'è. Eh, perché non sia mai... Eh, un attimo, un attimo. Ok. Non c'è niente. Qui mi sa che già ho guardato che cosa c'è. Preciso. Waiu. Prima di continuare, io vi saluto e vi invito a lasciare tanti bei mi piace, anche per la frase che ha detto Geralt alla nostra amica Kira. Eh, di iscrivervi al canale, di commentare, di condividere se potete. E al prossimo video, Waiu. Ciao. Ciao.